Ragazzi sono appena arrivati i primi 3000 libri Nei prossimi giorni verranno mandati E quindi affrettatevi a prenderli perché dopo 3000 poi non ce ne saranno più No ce ne sono, ne arrivano ancora, non ti preoccupare Dopo i 3000 libri bisognerà aspettare la ristampa Quindi affrettatevi perché sennò poi non ce ne sono più Ma come mai sei vestita da gara? Oggi farò una distrattiva a 4 anni con Pat E quindi ci prepariamo, andiamo? Dove? A Manervio fare la distrattiva Ah Manervio la fai? Va bene, ma viene anche Paco? Sì Allora? Ci vediamo dopo, ciao Contento Paco di venire Per fortuna che in questa avventura non nevica Speriamo No, c'è il sole Guarda che bella giornata Quanti giorni di gara farai? 3 Ma oggi è giovedì? Guarda, c'è il giovedì, salate e l'olimica Quindi domani vai a scuola? Sì, purtroppo sì Ma c'è quello che verifica? No E anche la copertina, questa qui sembra quella dei cavalli Infatti si chiama dog wear Si chiama? Dog wear Perché c'è anche horse wear Ah Invece questo è dog wear Dog wear Della Rambo Della Rambo, eh? Sì, è della stessa marca della coperta di pasta Pensa a te Super Allora Paco, andiamo 3 2 1 Vai Andiamo Andiamo Ci vediamo dopo Ciao Che stai facendo? Eh, studiando Siamo arrivati? Paco, siamo arrivati? C'è un cane Com'è? 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 Buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. ci vediamo domani. facciamo la gara. e a tutti. 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 però guarda che tu hai cavalli. quindi è più note. quello fa ora. allora com'è che funziona il meccanismo? si fa la cassa faccio io la cassa fai tu sei in buone mani allora ma due euro hai messo te va bene 2 euro qua allora praticamente si punta un euro a cavallo chi vince vince 9 euro ma spiega cos'è che state facendo dai metti su tira fuori tira fuori si accettano a segni anche a 2 euro puoi pagare che con la carta se vuoi vale valeria valeria si può pagare che con la carta attenzione che se ci sono più code casa dovete dividere il prezzo cercate di scommettere su uno te l'ho dato sicuro controlla tu cos'è che scommetti due a scrivi che scrive le puntate poi che inizia chi è che aspetta scrivi aspetta katia e togli un attimo qualche allora cristina e anna puntano su code casa vediamo ma qui il montepremi sale ma il montepremi katia devo andare di là allora giulia due euro e ma dio chi è che sta segnando io lo lui perché no 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 segna segna anche lei ok ha segnato opposto no edo segna loro due segna loro due anche guarda te lo dico dopo come me allora un altro eurino per edo sempre su mio scusa però potremmo fare una cosa di vento così magari ho scusa eh 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 loro due bisogna segnare io appena arriva l'uomo conta te conta te appena arriva mia mamma ti do leo no eh eh no eh non si accetta credito qua eh non si fa credito non si fa credito inizia inizia Valeria non si fa credito inizia per questo tu 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 voi allora la vincitrice la vincitrice andiamo sul falcolo sul podio sul podio aspetta ti do dalla busta allora cinque andiamo a bere un caffè aspetta ti do prego allora cosa fai adesso in gara traffico se la insegnare prima di lei soltanto due ore in anticipo che prima c'è la vinci i quanti bianchi guanti bianchi si ma non l'ho visto ancora posto si ma non Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.